Ma scusate, ma i tifosi si innamorano sempre di Zeman e alla fine questi tifosi, sempre innamorati di Zeman, non alzano mai nessun trofeo. Ma niente, ma questo non alzano sempre. Allora, è la storia, non è che mi sogno, dico che il minore ha metto una coppa dei campioni, no, questi tifosi che sono innamorati di Zeman, si, il fascino, il fascino perverso, alla fine, trofei ma!